Seconda ed ultima puntata della serie dedicata al pensiero di Maurice Marleau-Ponty. Titolo della puntata L'essere è l'orizzonte sfuggente della carne. Solite citazioni di apertura. Il nostro punto di partenza non sarà l'essere è, il nulla non è, e nemmeno, c'è solo l'essere. Formula di un pensiero totalizzante, di un pensiero di sorvolo, ma sarà. C'è essere, c'è mondo, c'è qualcosa, nel senso forte in cui il greco parla di to leghe in. C'è coesione, c'è senso. Ancora, i fatti e le essenze sono astrazioni. Ciò che c'è sono dei mondi. E un mondo è un essere. Non somma di fatti o sistema di idee, ma impossibilità del non senso e del vuoto ontologico. Infine, la risposta è più in alto dei fatti, tra virgolette, e più in basso delle essenze, sempre tra virgolette. E' nell'essere, con la E maiuscola, nell'essere selvaggio, in cui essi erano indivisi e in cui, dietro o sotto le scissure della nostra cultura acquisita, continua a esserlo. Bene, veniamo al dunque, e cioè, come abbiamo visto nella scorsa puntata, nella prima fase della sua indagine, imperniata sulla percezione, Merleau-Ponty ha scoperto, cito, un altro soggetto sotto di me, un margine di esistenza anonima intorno all'esistenza personale, l'agire di un complesso innato. Fine delle citazioni Il secondo e ultimo tempo della ricerca di Merleau-Ponty è appunto dedicato alla comprensione e alla chiarificazione di questo margine di esistenza autonoma. Sono parole sue. In questo modo, la teoria della percezione e del corpo di Merleau-Ponty si sviluppa in una ontologia della percezione del corpo, ovvero in una teoria dell'essere quale, inattingibile, dunque enigmatico, fondamento-sfondamento, perché è un fondamento abissale, senza fondo, fondamento-sfondamento della percezione e del corpo. Dunque, il punto di partenza dell'ontologia merleau-pontiana è pur sempre la percezione corporea, più precisamente quella che ora Merleau-Ponty chiama fede percettiva, sua allocuzione. Fede percettiva. Una fede non dogmatica, esposta al dubbio, ma che comunque, pur senza prove, è certezza di un mondo sensibile comune a tutti gli uomini, che, come tale, è il sostrato della verità. Espressione sua. Cito ancora. La nostra certezza di essere nella verità, scrive in tal senso Merleau-Ponty, fa tutt'uno con quella di essere nel mondo. In altre parole, per Merleau-Ponty, il nostro comune strutturale essere nel mondo ci offre la certezza che la percezione ci fa conoscere le cose stesse, ossia l'essere nel mondo ci infonde una fede immediata nella verità delle nostre percezioni, ovvero nell'esistenza di un mondo unico e comune a tutti gli uomini, che permette la comunicazione tra i mondi privati, locuzione merleau-pontiana, tra i mondi privati dei singoli uomini, vale a dire tra le diverse visioni prospettiche individuali. Stando così le cose, Merleau-Ponty asserisce che, cito, l'universo della verità e del pensiero si costruisce per noi attingendo alla struttura mondo. Fina della citazione. Ciò significa, continua Merleau-Ponty, che, e cito ancora, il mondo sensibile è più vecchio, tra virgolette, dell'universo del pensiero. Il primo è visibile e continuo, il secondo invisibile e lacunoso. Non è un tutto e non ha verità se non poggia sulle strutture del primo. Chiusa la citazione. Detto altrimenti, Merleau-Ponty considera il mondo fisico il visibile e il pensiero, il mondo delle nostre idee, l'invisibile, riproponendo così, con termini nuovi, il per lui cruciale problema filosofico del rapporto natura-spirito res extensa res cogitans. Tale rapporto, per Merleau-Ponty, non si configura come un dualismo, bensì come una reciproca convergenza. La natura è lo strato primario della realtà. Il pensiero o spirito è una sua ulteriore stratificazione derivante dalla prima e a essa complementare. Dunque, secondo Merleau-Ponty, la verità, principio della dimensione del pensiero, consiste nel poggiare, nel fondarsi sulla sensibilità, principio della dimensione della natura. Almeno sotto questo aspetto, l'ontologia merleau-pontiana richiama la filosofia della natura di Schelling e in particolare la sentenza schellinghiana che recita la natura è spirito visibile e lo spirito è natura invisibile. Forse, non a caso, Merleau-Ponty usa per intitolare la sua opera incompiuta il visibile e l'invisibile proprio i termini visibile e invisibile che, come abbiamo visto, sono da lui associati rispettivamente al sensibile, cioè alla natura, e al pensiero, cioè allo spirito, ricalcando così la formula schellinghiana. In questa prospettiva, per Merleau-Ponty non abbiamo mai false apparenze, non siamo mai vittime delle illusioni sensibili. Egli fa l'esempio di una sua visione da lontano di un pezzo di legno sulla sabbia che, in un secondo momento, ha uno sguardo più ravvicinato, si mostra invece come una roccia argillosa. Non si tratta, spiega Merleau-Ponty, di una falsa apparenza, di una visione ingannevole, cui è seguita un'apparenza vera, ma di due evidenze che si sono succedute. Si tratta, cioè, di una prima evidenza che è stata rimpiazzata da un'altra evidenza, ossia di due evidenze dotate entrambe di uguale verità. In altri termini, chiarisce Merleau-Ponty, ogni percezione, in quanto prospettica, è un'opinione. Tuttavia, essa è vera nella sua parzialità, intanto, in quanto appartiene pienamente al mondo, partecipa dello stesso mondo. In questo senso, secondo Merleau-Ponty, anche il diverso colore che un daltonico vede è parte del sistema mondo e dunque la percezione del daltonico è veritiera, tanto quanto quella di un uomo dalla vista normale. Ciò significa che, per Merleau-Ponty, le nostre percezioni sono parte integrante del mondo. A questo riguardo, egli parla di una complicità, è una sua parola, tra il nostro sguardo e le cose e afferma, cito, le cose visibili intorno a noi riposano in se stesse. Il loro essere naturale è così pieno che sembra involgere il loro essere percepito come se la percezione che noi ne abbiamo si effettuasse in esse. Fine della citazione. E ancora scrive Merleau-Ponty cito Io e il mondo siamo uno nell'altro e ancora si può dire che noi percepiamo le cose stesse che noi siamo il mondo che si pensa che noi siamo il mondo che si pensa o che il mondo è il cuore della nostra carne. Fine della delle citazioni In queste affermazioni Merleau-Ponty sembra far propria la sentenza S. Est Percipi di Berkeley ma mutando nel senso in quanto per lui la percezione non è un atto esclusivo della mente umana come per Berkeley bensì è anche al tempo stesso un atto della natura che si pensa attraverso il pensiero umano In altri termini secondo Merleau-Ponty dal momento che la natura è nell'uomo e l'uomo è nella natura le cose fisiche si percepiscono nella nostra coscienza e la nostra coscienza percepisce dentro le cose fisiche al loro interno Detto altrimenti secondo Merleau-Ponty natura e spirito si coappartengono sono l'una la prosecuzione e il completamento dell'altro Non di meno Merleau-Ponty non teorizza una loro coincidenza ovvero una loro sintesi dialettica di stampo hegeliano A suo giudizio tra natura e spirito fisicità e coscienza mondo e pensiero vi è una relazione di complementarità sì dialettica ma senza sintesi o perlomeno senza mai una sintesi definitiva compiuta e quindi conclusiva ma solo con sintesi parziali provvisorie e bohbentane Merleau-Ponty connota questa relazione di coappartenenza differenziante di mondo e io di fisico e mentale utilizzando la metafora bellissima metafora dell'abbraccio che esprime appunto un'unità oltretutto affettivamente connotata quasi un'attrazione amorosa reciproca che però presuppone una mai annullabile distinzione ovviamente ci si abbraccia solo tra corpi distinti non di meno l'abbraccio tra l'io e il mondo tra il pensiero e le cose la loro reciproca inerenza implica per Merleau-Ponty la comunanza di qualcosa un comune denominatore si tratta del principio che Merleau-Ponty chiama carne in francese cher usando questo termine in un'accezione del tutto peculiare quasi come un mero significante senza un significato preciso ovvero con una pluralità di significati sfumati allusivi in questo senso Merleau-Ponty in prima approssimazione qualifica la carne in negativo ne fa una sorta di principio di un'ontologia negativa vale a dire che afferma che essa non è materia né è psiche e nemmeno sostanza e neanche spirito sotto questo aspetto l'ontologia della carne di Merleau-Ponty è avvicinabile alla teologia apofatica dell'uno di Plotino e poi di molti altri filosofi successivi in seconda approssimazione e in positivo Merleau-Ponty aggiunge rifacendosi in tal caso alla prima filosofia greca che la carne è un elemento primo l'elemento costitutivo dell'intera realtà il sostrato di tutti i suoi molteplici e variegati differenti aspetti in questo senso si può interpretare la carne Merleau-Ponty come una sorta di Apeiron Anassimandreo cioè come l'elemento primo illimitato indeterminato che tuttavia è immediatamente differenziato e dunque costituito da opposizioni complementari alla Heraclitos in primo luogo la differenza fondamentale tra natura e spirito fisicità e coscienza mondo e pensiero fatticità e senso Merleau-Ponty caratterizza questo elemento primitivo primigenio e quindi indefinibile anche come cito una sorta di elemento inconscio dell'Occidente non integrato nella sua razionalità fine citazione ossia qualcosa che il pensiero occidentale non è riuscito a concepire di cui non è dunque consapevole diversamente dal pensiero orientale che quindi in tal senso si può considerare quantomeno una delle fonti di ispirazione dell'ontologia merleau-pontiana su queste basi Merleau-Ponty propone un'antropologia carnale vale a dire una teoria dell'uomo in quanto carne in quanto carne sostiene Merleau-Ponty il mio corpo è espressione sua un essere a due fogli vale a dire che sia una cosa come tutte le altre sia ciò che vede e tocca le cose altrimenti detto il mio corpo secondo Merleau-Ponty è sia oggetto fisico sia soggetto conoscente meglio oggetto soggetto sono come il dritto e il rovescio di uno stesso guanto o anche come i due segmenti in cui si può dividere una circonferenza ancora e soprattutto il rapporto corpo-spirito è configurato da Merleau-Ponty come una relazione concavo convesso ossia per esempio come una sfera vuota colmata da una sfera piena in tal senso Merleau-Ponty scrive che l'anima sto citando l'anima è la cavità del corpo il corpo il rigonfiamento dell'anima e ancora cito c'è un corpo dello spirito e uno spirito del corpo e un chiasma un chiasma tra di essi fine citazione chiasma la cui etimologia rimanda alla lettera della greca chi che comunque è graficamente simile alla nostra x è appunto il termine più originale significativo che Merleau-Ponty chiasma adotta non tanto per definire quanto per figurare in modo sfumato come un'icona in modo sfumato e allusivo la relazione di incrocio o intreccio nella reciproca distinzione di unione nella differenza e di differenza nell'unione di corpo e anima o spirito che dir si voglia in questa prospettiva secondo Merleau-Ponty da un lato il visibile l'oggettività naturale dipende dalla mia visione soggettiva ma dall'altro lato in quanto carne tale quale a quella del mio corpo l'oggettività naturale nella sua profondità ingloba il mio corpo e la mia visione soggettiva insomma è grazie alla comune e condivisa carne che oggettività e soggettività natura e spirito afferma Merleau-Ponty sono come due specchi che si rispecchiano l'uno nel l'una la natura nell'altro ah vabbè gli specchi quindi più più precisamente anche per connotare il rapporto natura spirito Merleau-Ponty usa il termine chiasma cioè afferma che tra natura e spirito vi è un intreccio un incrocio ossia un rapporto unitario nella distinzione reciproca in base al loro chiasma vedente visto soggetto conoscente oggetto conosciuto sono legati da una relazione di reciprocità si scambiano le parti non è possibile stabilire chi vede e chi è visto stabilire nettamente dividere nettamente chi vede e chi è visto chi conosce e chi è conosciuto chi è attivo e chi è passivo non è possibile perché entrambi sono sia l'uno sia l'altro a questo riguardo Merleau-Ponty asserisce che le cose catturano parola sua catturano il nostro sguardo e insieme cita le testimonianze lasciateci da alcuni pittori nelle quali questi pittori affermano di sentirsi guardati dalle cose naturali che dipingono è come spiega Merleau-Ponty quando la nostra mano destra tocca la sinistra e si sente a sua volta toccata da questa e dunque sia attiva sia passiva senza tuttavia poter percepirsi come un toccato toccante vale a dire senza poter far coincidere l'essere toccato passivo con il toccare attivo in altre parole per Merleau-Ponty le cose sono in noi e noi siamo nelle cose ma pur tuttavia questa prossimità si dà nella reciproca distanza in un'insuperabile distinzione la carne e il chiasma che la costituisce per Merleau-Ponty sono anche il sostrato comune dell'intercorporeità vale a dire della coappartenenza dei corpi umani e del loro reciproco riconoscimento in quanto umani a questo proposito Merleau-Ponty scrive cito il chiasma al posto del per altri ciò significa che non c'è solamente rivalità io altro ma co-funzionamento noi funzioniamo come un corpo unico fine della citazione toccare la mia mano asserisce Merleau-Ponty equivale a toccare la mano di un altro e dunque in generale ogni mia percezione è coordinata alle percezioni altrui cito il piccolo mondo privato di ognuno e gli sostiene a tal proposito non è giusto apposto a quello di tutti gli altri ma circondato da essi prelevato da essi e tutti insieme sono un senziente in generale di fronte a un sensibile in generale chiusa la citazione ciò significa a giudizio di Merleau-Ponty che io sono l'interno dell'esterno dell'altro uomo e anche l'esterno del suo interno propriamente prosegue Merleau-Ponty non siamo né io né l'altro che percepiamo che vediamo e conosciamo dal momento che siamo abitati entrambi da una cito visibilità anonima e universale da una conoscibilità intrinseca propria della carne in questo senso Merleau-Ponty afferma che la carne è cito avvolgimento del visibile sul corpo vedente del tangibile sul toccante fine risulta abbastanza chiaro che in questo modo Merleau-Ponty fa propria la cosiddetta morte del soggetto ma e in questo sta la sua originalità insieme alla morte dell'oggetto insomma per lui soggettività e oggettività muoiono insieme l'una muore intanto in quanto muore l'altra e viceversa e dalle loro cene rinasce o meglio continuamente rinasce come l'araba fenice del mito la carne l'araba finisce in realtà è la carne da sempre per sempre il vero principio della realtà che possiamo dire continuamente si disfa e si rifà in base a questa visione eulistica anche le idee umane ossia il pensiero sostiene Merleau-Ponty fanno parte della carne del mondo non sono il contrario della fisicità ma ne costituiscono il risvolto e la profondità per comprendere appieno questa tesi Merleau-Ponty occorre chiarire che le idee per Merleau-Ponty sono il prodotto del pensiero umano e questo a sua volta è cito strutturato come un linguaggio Lacan aveva scritto l'inconscio strutturato come un linguaggio Merleau-Ponty scrive invece che il pensiero umano è strutturato come un linguaggio cioè è tutt'uno con il linguaggio e il pensiero linguaggio contiene il senso del mondo il senso dell'intera realtà non di meno scrive Merleau-Ponty e cito di nuovo la stessa idealità pura non è senza carne non è liberata dalle strutture d'orizzonte prospettiche essa ne vive ancorché si tratti di un'altra carne di altri orizzonti dunque il pensiero linguaggio per Merleau-Ponty è carne tanto quanto le cose fisiche benché sia una forma differenziata di carnalità in questo senso l'idea asserisce Merleau-Ponty è una possibilità interna del mondo è l'invisibile che lo abita e lo rende visibile è presente in trasparenza o in filigrana espressioni nel cuore sempre espressioni di Merleau-Ponty del sensibile pertanto asserisce Merleau-Ponty se fossimo privi di corpo se non fossimo carne le idee ci sarebbero inaccessibili ossia non saremmo in grado di pensare di parlare è cito come se la visibilità che anima il mondo sensibile emigrasse non già fuori da ogni corpo ma in un altro corpo meno pesante più trasparente come se mutasse carne abbandonando quella del corpo per quella del linguaggio essa è quindi affrancata ma non liberata da ogni condizione carnale il linguaggio della prospettiva Merleau-Ponty è la voce delle cose cito delle onde dei boschi chiusa ancora il linguaggio precisa Merleau-Ponty è la sublimazione parola sua della carne una sublimazione intesa non tanto comunque non solo nel senso freudiano ma nel suo originario significato chimico di cui si era servito metaforicamente Nietzsche nella sua genealogia della morale cioè nel significato di passaggio immediato di una sostanza dallo stato solido allo stato gassoso per esempio dal ghiaccio direttamente al vapore acqueo detto altrimenti per Merleau-Ponty la carne sensibile sta alla carne ideale come la materia solida alla materia gassosa per questa via Merleau-Ponty giunge a sostenere che cito non siamo noi a percepire è la cosa a percepirsi laggiù non siamo noi a parlare è la verità a parlarsi in fondo alla parola chiusa e ancora riapro ciò che comincia come cosa finisce come coscienza di esso ciò che comincia come stato di coscienza finisce come cosa ciò significa che secondo Merleau-Ponty il senso del mondo e quindi il pensiero e il linguaggio che lo esprimono sono intrinseci al mondo stesso gli appartengono sono parte della sua carne carne della sua carne cito il senso è invisibile scrive Merleau-Ponty appunto ma l'invisibile non è il contrario del visibile il visibile ha esso stesso una membrana di invisibile e l'invisibile è la contropartita segreta del visibile ancora il visibile è pregno dell'invisibile e è la profondità del visibile fine delle citazioni da questa angolatura per Merleau-Ponty le essenze razionali sono le cose fisiche nella dimensione della parola le cose fisiche sono essenze razionali nella dimensione della natura di conseguenza Merleau-Ponty asserisce che e cito ancora le cose ci possiedono non siamo noi a possederle e che il linguaggio ci possiede non siamo noi a possederlo e chiudo e infine giunge al cuore della sua antologia asserendo che cito ancora è l'essere a parlare di noi e non noi a parlare dell'essere e che la filosofia è l'essere parlante in noi fine citazione tuttavia al tempo stesso Merleau-Ponty afferma cito ancora l'essere è ciò che esige da noi creazione affinché ne abbiamo l'esperienza altrimenti detto secondo Merleau-Ponty che in questo si avvicina all'ontologia heideggeriana se è vero che siamo parlati dall'essere è altrettanto vero che possiamo esserlo nella misura in cui lo ascoltiamo attivamente vale a dire creiamo nel e col nostro pensiero Merleau-Ponty parla a tal riguardo di un'empatia che lega l'uomo all'essere e che gli permette di creare il pensiero linguaggio come ricezione dell'essere ma allora cosa intende per essere Merleau-Ponty una prima risposta la possiamo rivenire nel rimando Merleau-Pontiano alla monadologia alla teoria delle monadi di Leibniz egli sostiene in primo luogo che l'essere nel mondo corrisponde all'insieme delle prospettive percettive che le monadi si rimandano l'una l'altra e che il chiasma è ciò che lui chiama chiasma è la verità dell'armonia prestabilita cioè la vera versione dell'armonia prestabilita Leibniziana e in secondo luogo afferma Merleau-Ponty che l'essere grezzo lo chiama grezzo parola sua o anche selvaggio parola sua l'essere grezzo o selvaggio di cui egli parla corrisponde corrisponde non è corrisponde al dio Leibniziano come fonte unitaria da cui sgorgano tutte le visioni prospettiche delle monadi in questo senso Merleau-Ponty scrive cito si deve dire l'essere è quello strano sopra avanzamento il quale fa sì che il mio visibile quantunque non sia sovrapponibile a quello altrui sbocchi però in esso che sbocchino entrambi nello stesso mondo sensibile Merleau-Ponty precisa che alcuni tratti del dio Leibniziano sono da conservare integralmente due parole sue conservare integralmente benché tuttavia la sua concezione dell'essere non coincida affatto con quella Leibniziana di Dio ciò significa che l'essere Merleau-Pontiano da un lato è sì come il dio di Leibniz l'orizzonte unitario che include il visibile e l'invisibile le cose e le idee la fisicità e il pensiero linguaggio dall'altro lato però a differenza del dio di Leibniz l'essere di Merleau-Ponty non è pura razionalità ma carne o meglio la carne nella sua totalità inesauribile e quindi inconoscibile trascendente ogni percezione e quindi ogni possibilità di piena conoscenza relativamente a questa sua inconoscibilità l'essere di Merleau-Ponty si avvicina a quello di Heidegger insieme all'uno di Plotino in quanto è come Merleau-Ponty lo definisce un essere di latenza espressione di Merleau-Ponty un essere di latenza cioè si manifesta sempre ritraendosi fa apparire gli essenti intanto in quanto si cela dal momento che ogni visibile presuppone uno sfondo che non è visibile in questo senso l'essere per Merleau-Ponty è l'invisibile per eccellenza cito l'apparenza sensibile del sensibile la persuasione silenziosa del sensibile è l'unico mezzo per l'essere di manifestarsi senza divenire positività senza cessare un fatto positivo senza cessare di essere ambiguo e trascendente dunque l'essere per Merleau-Ponty è insieme trascendente e immanente da un lato rimane sempre nascosto dall'altro tuttavia è disvelamento manifestazione apparizione sensibile e in quanto tale è carne a questo riguardo Merleau-Ponty indica nel linguaggio cito il più valido testimone dell'essere fine vale a dire il luogo appropriato della sua manifestazione della manifestazione dell'essere sotto questo aspetto l'essere merleau-pontiano si discosta originalmente dall'essere di Heidegger per l'attributo sempre per l'attributo della carne per la sua carnalità grazie alla quale in esso fatti ed essenze sono indivisi la carne per Merleau-Ponty è il cordone ombelicale parole sue che ci connette con l'essere in questo senso egli afferma ancora che l'essere non solo ci circonda ma anche ci attraversa e giunge a sostenere che tra noi l'essere sussiste una relazione di empatia di conseguenza scrive Merleau-Ponty possiamo pensare che cito c'è essere c'è mondo c'è qualcosa nel senso forte in cui il greco parla di to leghein c'è coesione c'è senso e ancora scrive che c'è un essere non somma di fatti o sistema di idee ma impossibilità del non senso o del vuoto ontologico fine citazione in altre parole l'essere per Merleau-Ponty è il logos della prima filosofia greca l'ordine che connette ogni cosa dando senso alla realtà tuttavia l'essere ribadisce Merleau-Ponty pur nella sua carnalità rimane la presenza di un'assenza si dà in un orizzonte di latenza è un abisso non una pienezza pertanto noi siamo in un rapporto di prossimità assoluta con l'essere e quindi con il mondo ma anche di distanza irrimediabile cito l'immediato scrive Merleau-Ponty è all'orizzonte deve essere pensato a questo titolo ossia rimane se stesso solo rimanendo a distanza fine citazione da questo punto di vista l'ontologia Merleau-Pontyana rimanda alla tradizione occidentale della teologia apofatica o negativa ma anche al pensiero orientale in particolare al pensiero dei Veda ai testi sacri dell'induismo non di meno come abbiamo visto nonostante la sua imperscrutabile trascendenza l'uomo per Merleau-Ponty è empaticamente collegato all'essere ovvero può conoscere la sua manifestazione nel linguaggio in questa prospettiva Merleau-Ponty asserisce che la manifestazione linguistica dell'essere avviene al massimo grado nel nostro interrogarci non nelle risposte ma nelle domande esistenziali ed ontologiche che ci poniamo in altre parole a giudizio di Merleau-Ponty tutte le nostre domande fondamentali chi sono che cosa c'è che cos'è il c'è sono svelamenti di un essere che non è mai posto che rimane invisibile ma che sta cito silenziosamente dietro silenziosamente dietro quelle domande la filosofia prosegue Merleau-Ponty non consiste né nel dimenticare queste domande affogandole nel silenzio dell'essere né nel vano tentativo di cito di imprigionarle nelle nostre chiacchiere fine detto altrimenti per Merleau-Ponty filosofare non significa rinunciare a ogni tentativo di rispondere alle domande fondamentali abbandonandosi all'inconoscibilità dell'essere al suo insondabile mistero ma non significa nemmeno pretendere di dare loro una risposta esaustiva necessariamente ingannevole perché l'essere è irriducibile alla nostra conoscenza in cosa consiste allora il filosofare la filosofia sto citando afferma Merleau-Ponty è la mutua riconversione del silenzio e della parola fine citazione come interpretare questa sibillina sentenza mutua riconversione del silenzio e della parola sembra di capire che per Merleau-Ponty filosofare significhi accettare rispettare l'enigmatica tensione dialettica tra il silenzio dell'essere e la parola che cerca di tradurlo cioè di renderlo comprensibile a noi uomini in altri in altri termini filosofare significa cercare di parlare dell'essere nella consapevolezza della sua ineffabilità ovvero cercare di mediare l'antitesi dialettica del silenzio del linguaggio senza ambire a una loro impossibile sintesi rimanendo per così dire in mezzo al guado o sul filo del rasoio dunque nella posizione più instabile e quindi rischiosa ma anche più vera anzi l'unica vera in questo senso Merleau-Ponty scrive scrive anche che cito il silenzio continua ad avvolgere il linguaggio silenzio del linguaggio del linguaggio assoluto del linguaggio pensante forse ciò significa che per Merleau-Ponty il silenzio è il linguaggio assoluto dell'essere inteso come puro pensiero pensiero immediato privo di parola privo cioè di espressione linguistica in questa prospettiva Merleau-Ponty considera l'arte come la forma più veritiera del linguaggio quella cioè che permette la più ampia profonda rivelazione dell'essere egli infatti asserisce come abbiamo visto che l'essere parla in noi attraverso la nostra capacità di creazione e in tal senso è l'arte e più di ogni altra la pittura che cito si apre su una trama dell'essere di cui i messaggi sensoriali discreti sono solo le interpunzioni e le cesure e in cui l'occhio abita come l'uomo in casa sua fine della citazione altrimenti detto la pittura per Merleau Ponty coglie la totalità dell'essere di cui le singole sensazioni conoscono solo dettagli i pittori infatti argomenta Merleau Ponty hanno spesso raffigurato se stessi mentre dipingevano e in tal modo hanno rappresentato sulla tela ciò che le cose vedevano di loro cito come a testimoniare che esiste una visione totale o assoluta al di fuori della quale niente rimane fine della citazione in altre parole la pittura per Merleau Ponty mostra non solo la nostra visione delle cose ma anche la visione di noi propria delle cose stesse e in questo modo raggiunge la visione totale olistica dell'essere si tratta di una visione che secondo Merleau Ponty supera ogni dualismo egli infatti scrive a questo riguardo naturalmente cito essenza ed esistenza immaginario reale visibile ed invisibile la pittura confonde tutte le nostre categorie dispiegando il suo universo onirico di essenze carnali di rassomiglianze efficaci di significazioni mute chiusa la citazione in particolare afferma Merleau Ponty la visione totale dell'essere è raggiunta dai dipinti di Cézanne Cézanne scrive Merleau Ponty dipinge il punto dove la natura non umana incontra la natura dentro l'uomo Cézanne ha voluto dipingere questo mondo primordiale ecco perché i suoi quadri danno l'impressione della natura alla sua origine fine della citazione e con ancora più forza Merleau Ponty proclama nuova citazione in Cézanne si svela sempre da capo l'atto primario in cui la natura umana si innesta sulla natura disumana svela l'altro l'irriducibilmente altro si conclude qui la seconda e ultima puntata della serie dedicata al pensiero di Merleau Ponty e inizierà una nuova serie come sempre forse dedicata al pensiero che adesso che adesso non emerge al pensiero di Cassirer del filosofo tedesco Cassirer in particolare relativamente alla sua opera filosofie delle forme simboliche bene alla prossima puntata